Buongiorno. Allora siamo arrivati a un momento importante, il punto, il punto all'interno di questo Family Business Forum che ha condiviso con tutti voi, con chi è in aula, o meglio con chi è in questo splendido teatro e con chi è a casa, dei messaggi molto potenti. E vorrei sviluppare questo punto in una logica di confronto internazionale. Che cosa troviamo nel Family Business italiano che ci accomuna all'estero e che cosa magari ci differenzia? Quali messaggi? Il primo aspetto, la diffusione delle aziende familiari in Italia è importante, ma importante anche in altri paesi. Abbiamo sentito la Germania, non siamo un caso unico. Quindi il confronto internazionale è importante perché ci può ispirare come imprenditori, come professionisti per guardare oltre. Secondo punto, la successione. La successione è un tema che naturalmente travalica i confini, il processo di successione, il ruolo dei genitori che abbiamo sentito nell'educare la nuova generazione, la nuova generazione di proprietari e magari qualcuno di questi vorrà entrare in azienda e prendersi delle responsabilità. Perché poi alla fine ci sono delle responsabilità, compassione, sacrifici, però sono anche delle responsabilità. E quindi i genitori che devono educare alla libertà delle scelte e alla responsabilità delle scelte. La successione è un processo, viviamo in un momento storico in cui tutto è veloce, invece la successione è un processo lungo perché inizia, come abbiamo appena sentito, quando i giovani sono ancora veramente in tenera età e bisogna farli appassionare all'azienda. La successione oggi ha un elemento importante che abbiamo sottolineato con i vari interventi, la convivenza tra generazioni. L'aspettativa di vita si sta allungando e quindi la nuova generazione e la generazione un po' più senior dovranno collaborare di più all'interno dell'azienda. E qui alcuni messaggi molto chiari, la specializzazione dei ruoli e capire come bilanciare l'io, la dimensione e l'identità del singolo, con il noi, la dimensione e l'identità dell'azienda familiare, della leadership, delle persone della famiglia che lavorano nell'impresa. Questi sono temi molto importanti, così come i valori familiari. I valori familiari accomunano le aziende familiari. Attenzione che i valori familiari sono tradizione, ma poi bisogna anche saperli contestualizzare da una generazione a quella successiva, per evitare di cadere in quella situazione che un caso ha sottolineato, di rimanere un po' trappola del passato, di confrontarsi solo col passato e di non cogliere l'occasione per innovare e guardare il futuro. Ogni generazione deve avere una capacità imprenditoriale, probabilmente un imprenditore, e ogni generazione deve creare valore economico e sociale. Un altro aspetto importante che ci accomuna è la ricerca di una governance moderna, aperta nell'azienda, anche per attrarre quelli che sono i famosi talenti non familiari. Quindi aprirsi, anche aprirsi a livello del capitale. Abbiamo sentito la borsa italiana, qualcuno ha deciso di fare operazioni diverse andando verso gli investitori in capitale di rischio. Se queste sono le cose che ci accomunano, qualche riflessione su qualche elemento di differenziazione. Prima di tutto io direi che c'è una vocazione industriale in Italia, che le aziende familiari sicuramente rappresentano, che è una vocazione da curare, da valorizzare. E qui i messaggi sono stati diversi, c'è il made in Italy, però ogni tanto bisogna chiedersi se il sistema Italia, il sistema Europa non crei a livello di regolamentazione qualche elemento che non aiuta la competitività, perché è la competitività per molte aziende a livello internazionale. Secondo punto di differenziazione. In Italia abbiamo splendide aziende familiari, però ci mancano dei grandi campioni, dei national hero. Abbiamo sentito il caso tedesco, si potrebbero vedere altre imprese, altri paesi con cui confrontarci. Ecco, in Italia probabilmente c'è una riflessione sulla dimensione su cui bisogna riprenderla, svilupparla. È una questione di scelte imprenditoriali, ma anche di contesto istituzionale. Siamo nelle filiere, siamo dei fornitori a valore aggiunto, ha detto qualcuno, ma le filiere hanno anche degli orchestratori, ed è ben essere anche degli orchestratori, soprattutto nelle filiere internazionali. Altro tema di differenziazione, tante family business. Stiamo cominciando a parlare di quello che all'estero chiamano enterprising family. Un accademico, o più di un accademico, ha toccato questo tema. Non c'è solo l'impresa familiare, c'è un patrimonio più allargato, è fatto di diverse aziende, una diversificazione, la filantropia, il family office, ci sono tante cose. Quindi c'è un po' il desiderio di costruire dei sistemi di governance per gestire anche famiglie grandi e allargate. Due temi ultimi che mi piace affrontare è la demografia, pochi figli nelle culle. Questo è un tema, è un tema che non è semplicemente per dare continuità all'impresa, ma perché ci serve anche una crescita demografica per sostenere quella che è la crescita del Paese. Qua c'è una responsabilità direi sociale delle aziende familiari, quella di costruire occupazione, ce l'hanno detto, ma anche di riflettere sulle politiche retributive, se sono politiche adatte a sostenere lo sviluppo economico, perché sappiamo che buoni salari facilitano anche la crescita demografica. Ultimo tema, sistema di tassazione accennato. L'Italia è un sistema di tassazione che favorisce o come dire aiuta la successione. Ci sono sistemi di tassazione anche a livello internazionale, anche questo è un tema per il futuro. Grazie. Grazie. Grazie.